La tua routine mattutina inizia sempre con una doccia rinfrescante che ti risvegli? O sei più il tipo che preferisce fare un bel bagno di benessere appena prima di andare a letto? Non importa quali siano le tue preferenze, tutti noi vogliamo detergere delicatamente e nutrire la nostra pelle durante la nostra routine di igiene personale. A volte ti capita che la tua pelle, quando esci dalla doccia, sia piuttosto secca o poco luminosa? Allora, non cercare più il giusto gel doccia, perché Aloe Body Wash di Forever offre alla tua pelle una detersione delicata ma efficace e senza seccarla. Aloe Body Wash è un gel doccia di altissima qualità che deterge e nutre la pelle con il meglio della natura. La formula senza solfati, con ingredienti rispettosi della pelle, rimuove in modo affidabile le impurità, lasciandola morbida e rinfrescata. Il 37% di puro gel di Aloe Vera idrata a fondo la tua pelle. Allo stesso tempo, le vitamine A, C ed E supportano l'antiinvecchiamento e aiutano a promuovere una pelle dall'aspetto sano e curato. Il gel coccola i tuoi sensi con un delizioso profumo di legno aromatico, ambra e una miscela di erbe che piacerà proprio a tutti. Anche il colore unico di Aloe Body Wash catturerà sicuramente la tua attenzione in quanto il bel verde mare vibrante derivato dalla clorofilla naturale ti regalerà quella meravigliosa sensazione di come quando sei in vacanza. Non appena Aloe Body Wash forma una schiuma cremosa sulla tua pelle, sentirai immediatamente l'effetto rinfrescante, poiché l'olio di argan, l'estratto di fiori di arnica, il muschio irlandese e gli estratti di jojoba idrolizzati assicurano una detersione delicata, lasciano la pelle morbida e aumentano l'idratazione. Quindi da oggi puoi mettere da parte il tuo gel doccia abituale. Con Aloe Body Wash e la sua combinazione unica di ingredienti puoi dare alla tua pelle la sensazione di freschezza e radiosità che merita. Come tutti i nostri prodotti di cura, Aloe Body Wash è stato testato dall'istituto indipendente Dermatest ed è stato valutato molto buono. Questo ti garantisce la migliore compatibilità con la pelle e la massima qualità. E adesso non mi resta altro che augurarti tanto divertimento e benessere con i prodotti di Forever. Clicca qui per iscriverti al nostro canale e qui trovi altri video.